Vigilia di partita di campionato Domenica c'è la Palmese, siamo con Antonio Del Cis, centrocampista della Paganese Antonio, domenica a Palma, trittico di queste tre partite un bilancio, c'è un po' di rammarico per qualche punto diciamo perso, però il cammino della Paganese è quello giusto Sì, assolutamente diciamo che in queste due partite di tre c'è mancata un po' di fortuna perché a livello di gioco abbiamo proposto un gran calcio a mio parere e abbiamo fatto quello che il mister ci richiede ci è girata un po' male, dai, però domani è sicuramente una partita difficile la terza in oltre giorni, ma la affronteremo con la solita voglia e scenderemo in campo un po' per vincere loro sono una grande squadra e sicuramente non meritano la classifica che hanno e domani daranno tutto per centrare la prima vittoria Antonio, questo è il tuo secondo anno in prima squadra sei cresciuto nel settore giovanile così come tanti altri ragazzi che fanno parte di questa rosa quest'anno con il mister Agovino stai interpretando un altro ruolo rispetto agli altri anni man mano stai iniziando ad entrare negli schemi di quello che vuole il mister sì, questo ormai è il settimo anno con questa maglia diciamo che ormai ce l'ho cucita addosso il secondo in prima squadra quest'anno a difenza gli altri hanno un ruolo un po' diverso piano piano mi sto adattando di partita in partita sto migliorando e cercando di capire il ruolo che il mister mi chiede e mano a mano andrà sempre meglio per mettermi a servizio della squadra come hai detto tu una Palmese che sicuramente non merita per l'organico e per la guida tecnica adesso è ritornato Mario Pietro Vinto la classifica che ha quindi domani sicuramente per loro come ha detto anche il mister Agovino sarà una delle ultime occasioni per non staccarsi troppo dal treno per quanto riguarda la Salvestra l'anno scorso lo sappiamo la Vaganese ha anche avuto difficoltà soprattutto non quella in casa ma soprattutto a giocare lì dove ci hanno comunque grande passione il pubblico però da controparte ci sarà tanta tanta tanto tanto colore azzurro stellato sugli spalti sì assolutamente i nostri tifosi ci seguiranno in tantissimi come sempre che tendo a ringraziare anche stavolta loro sono come ho detto prima una grandissima squadra per loro fortuna è tornata anche un grande allenatore domani sicuramente ci daranno filo da torcere ma domani ci siamo e faremo una grande partita e ci chiediamo di vincere la partita in conclusione questo è l'ultimo anno da Under per te è un anno importante e fondamentale cosa ti aspetti da questa stagione? quest'anno mi aspetto di fare le migliori cose possibile aiutato anche da compagni fantastici che ogni giorno i più grandi mi aiutano e mi consigliano e cercherò di fare un grande anno per l'ospettiva dell'anno prossimo per fare una grande stagione grazie a tutti grazie a tutti